Emanuele Bardelloni L'istituto ce ne sono tanti, ci sono tanti ragazzi. Come sta andando a Cavalese? Sta andando bene, sta lavorando molto bene col mister e col prof. I ragazzi stanno ambientando, siamo un gruppo nuovo, però siamo compatti e lavoriamo tutti assieme. Oggi era sfida dell'ex, quasi per Bardelloni. Lo sai che ci sono tante aspettative su di te in questa stagione? Sì, lo so, però da solo non è che posso fare, chissà che ho bisogno della squadra, loro hanno bisogno di me come io ho bisogno di loro e possiamo fare un grande campionato. Stai cercando l'intesa con quelli che saranno i tuoi compagni reparto, Bertoldi, Bosio, le tre B, Bardelloni, Bertoldi e Bosio. Com'è giocare a fianco a Betto e a Bosio? No, sono giocatori anche loro molto forti, ho molta stima di loro due, anche del ragazzino del 2000. Stiamo lavorando bene, sta cercando l'intesa giusta per poter far bene quest'anno.